Johan Mir, il nuovo leader della Honda, MotoGP 2024. Carissimi amanti delle corse su due ruote, benvenuti a un'altra esplosiva puntata di The Sport News. Oggi un annuncio mozzafiato che farà tremare il mondo delle corse. Johan Mir si prepara a guidare il futuro della Honda per la stagione 2024. Johan Mir, il virtuoso delle piste, ha dichiarato con fermezza di essere pronto a ripetere il successo ottenuto con la Suzuki nel 2020, questa volta con la sfavillante Honda. Prima di immergerci in questa elettrizzante notizia, vi chiedo di mettere il vostro like, condividere questo video con gali amici appassionati di moto e soprattutto iscrivervi al nostro canale The Sport News per non perdere nulla. Con la partenza di Marc Marquez a fine stagione, la Honda è alla ricerca di un nuovo eroe che la riporti in vetta alla MotoGP. Adesso che la leggenda spagnola ha abbandonato la sua RC213V, Gli occhi del mondo sono puntati su Johan Mir, l'unico pilota con un contratto fino al 2024 nel team ufficiale Honda. Chi sarà il suo compagno di squadra? È questa la domanda che sta facendo battere i nostri cuori. Condividete le vostre previsioni nei commenti. Mir, pur essendo all'esordio con Honda, diventerà il veterano del team senza Marquez. Una situazione intrigante, non credete? Ecco il punto. Chi si unirà a Johan? Sarà lui il veterano o potremmo vedere l'arrivo di una nuova stella nel suo box? Scrivete le vostre previsioni nei commenti. Mir non si tira indietro di fronte all'arduo compito di guidare lo sviluppo della RC213V per il prossimo anno. Ha già esperienza in questo campo e la sua determinazione è contagiosa. Lo ho già fatto con la Suzuki ed è stato un successo. Perché non farlo anche con la Honda? Johan Mir è un vero leader e sicuramente avremo molto di cui parlare nei prossimi mesi. Ricordo a tutti di condividere le proprie opinioni nei commenti e di iscriversi al nostro canale per non perdere alcun aggiornamento sulla MotoGP. Ma c'è di più! Johan Mir ha rivelato che avrà voce in capitolo nello sviluppo della moto. Un momento di svolta nella storia della Honda. Cosa ne pensate? Quali miglioramenti vi aspettate dalla RC213V nel 2024? Riflettiamo sul suo ingresso nella Suzuki nel 2019, quando era un debuttante accanto a un esperto come Alex Rins. Ora, invece, è lui il punto di riferimento, proprio come Marquez lo era con la Honda l'anno scorso. Questo cambio di ruoli può portare a risultati straordinari. Siete d'accordo? Fatemi sapere nei commenti. Nonostante finora il peso dello sviluppo Honda sia stato sulle spalle di Marquez, Johan Mir C. fa notare che le opinioni di entrambi sono state spesso allineate. Cosa vi aspettate da questa nuova fase del team Honda? Scrivetelo nei commenti! E, infine, Johan Mir ha accettato la sfida di guidare lo sviluppo della moto. Spetta ora ugly ingegneri della HRC ascoltarlo. Johan Mir non lascia spazio per incertezze. Sta cercando di portare la Honda nella giusta direzione. Che cosa dovrebbe fare Honda per tornare in cima? E quali sorprese ci riserverà Johan Mir? Fatemi sapere nei commenti! Questo è quanto per oggi, cari amanti della MotoGP. Non dimenticate di lasciare un like se avete apprezzato il video, condividere con ghiagli amici e iscrivervi al nostro canale The Sport News per rimanere aggiornati sulle ultime notizie dalle corse su due ruote. Johan Mir è pronto a prendere il controllo della Honda e noi saremo qui per raccontarvelo. Alla prossima!